Qual è la risposta del PD all'imposta della Tasi nel nostro territorio? La risposta del PD l'abbiamo già dato in Consiglio Comunale e che non eravamo affatti contenti del metodo amministrazione Giorgino. Ma la cosa singolare è che ancora una volta, nonostante quanto sia avvenuto all'interno del Consiglio Comunale, poi assistiamo praticamente ai 6x3 presenti nella città dove l'amministrazione Giorgino ancora una volta, facendo passare appunto, dando risalto all'apparenza piuttosto che alla sostanza, si è permesso al lusso di dire che effettivamente la Tasi è stata introdotta per colpa del governo Renzi. In realtà non è così, il nostro sindaco deve ricordare che la fonte, la natura, da dove nasce il problema della Tasi e soprattutto del buco lasciato dal duo Berlusconi-Tremonti all'epoca quando tolsero l'imposta comunale sull'immobile, cosiddetta ICI. Per cui non è vero che sia un problema di Renzi. Renzi purtroppo oggi si trova a gestire questa grossa problematica che ha in qualche modo inciso sulle tasche dei cittadini, come è inciso sui cittadini andriesi. Purtroppo poi c'è stata una rincorsa a coprire questo buco e quindi con l'introduzione dell'Imu e successivamente della Tasi. Ma il problema singolare sempre dell'amministrazione di Giorgino e sempre della sua capacità di far apparire piuttosto che rendere concreto il da farsi è proprio sul fatto che comunque la Tasi, ancorché sia tra le più basse d'Italia, è vero e dall'altro lato però non dispone di detrazioni ma soprattutto la Tasi non è altro che il terminale di un insieme di tasse già pagati sui rifiuti, quindi il sindaco Giorgino non dimentica anzi che il cittadino andriesi è stato già salassato dalla Tarsug, dalla Tares, dalla Tari e ha derivato alla Tasi. Per cui se la somma fa il totale la Tasi non è tra le più basse d'Italia. E se poi si aggiunge anche che le periferie, il centro città sono disserviti, sono sporchi, sono poco illuminati non può dire che la nostra amministrazione viene continuamente premiata. È esattamente un paradosso. La nostra amministrazione non dovrebbe essere premiata, dovrebbero essere premiati i cittadini che si stanno ancora una volta impegnando per rendere questa città più decorosa possibile piuttosto che l'amministrazione che alla città nulla fa per renderla decorosa.